Ecco qui, questa abbiamo la Sardegna, la nascita della Sardegna, questo quadro è abbastanza semplice il quadro, c'è da una parte, su questa parte, il mondo che sputta le uova, poi da quest'altra parte si dischiude l'uovo e che nasce la Sardegna, vedete l'isoletta, è un piccolo definito, guardate, la Sardegna, Gould, va.